Vole in alto come un aerofiano, tu che percepiti fra dal terzo piano da manano Mr. Carota, è avvenuto la pezzi, sono solo su Italia 1 Via Vole in alto come un aerofiano, tu che percepiti fra dal terzo piano da manano A casa in mangio, vi faccio dal primo fino al dolce, carotina e formaggio albicocca Prima, secondo, contorno e dolce Via, 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 via 1, via Lo insegui? Sì? Sicuro? Vuoi? Ancora? Un problema, vero? Il gredino Come va? Tutto bene? Sì, grazie Ah no, devo dire mezz'altro Allora, tutto bene? Sì, grazie Una Bart che si può sorpassare Da una SEATV Sei contenta di essere salva? Tu hai salvato Dio la verità l'ho rubata io e poi gliel'ho passata a loro